Buongiorno amici, oggi insieme a voi voglio approfondire un caso che mi sta molto a cuore e da molti anni. Fondamentalmente mi riferisco alla vicenda di Valentina Pizzalis. Oggi vi racconto la storia di Valentina approfittando di uno spunto perché in questi giorni ho letto degli articoli in cui nuovamente si parla di un nuovo esposto presentato in procura dalla famiglia di Manuel Piredda. Contro i gnoti questa volta dopo che il precedente esposto ha portato all'apertura di un'inchiesta contro Valentina Pizzalis, inchiesta che si è conclusa con la definitiva archiviazione di ogni accusa avanzata dai Piredda e dal team legale dei Piredda che si sono liberate completamente infondate, ebbene ho letto che nuovamente siamo alle solite. cioè stavolta l'inchiesta secondo loro dovrebbe essere aperta contro i gnoti e amici dovete sapere che nel momento in cui arriva un esposto, una denuncia in procura ovviamente la procura ha l'obbligo di aprire un fascicolo. Questo obbligo naturalmente porta all'iscrizione della notizia di reato e poi viene fatta un'indagine insomma. Credo che non serva la sfera di cristallo per in qualche modo anticiparvi che l'esito di questo nuovo esposto sarà anche abbastanza rapidamente una nuova archiviazione perché quella sera tra il 16 e il 17 aprile 2011 a Baku Abis non c'era nessun altro, c'erano Valentina Pizzalis e Manuel Piredda. E Manuel Piredda quella notte morirà proprio nell'incendio che aveva architettato, nella trappola mortale che aveva architettato per uccidere la moglie Valentina Pizzalis che da quell'incendio uscirà in condizioni terribili e riporterà proprio in seguito a quel tentato omicidio una serie purtroppo di mutilazioni. Come immagino la maggior parte di voi già sappia ma è bene fare delle precisazioni. Ora salta fuori una presunta traccia ematica peraltro evidenziata su alcune foto. Potete ben immaginare che lo stato dei luoghi è assolutamente modificato in maniera irreversibile ormai da moltissimo tempo, non vi è alcun modo di esaminare ulteriormente quello che già è stato fatto nella seconda inchiesta perché c'è stata una prima inchiesta dell'immediatezza dei fatti che venne archiviata per morte del reo, cioè di Manuel Piredda. Valentina è sopravvissuta, venne sentita, le sue dichiarazioni, la sua versione è sempre stata ritenuta affidabile così come è stata ritenuta pienamente credibile anche nella seconda inchiesta, sì perché i Piredda sono riusciti a far aprire un'inchiesta a carico di Valentina. Nel 2017 inchiesta che ha portato, molto ampia, complessa, che ha portato una serie di accertamenti, un incidente probatorio molto complesso, molto approfondito e che nuovamente ha confermato che Valentina Pizzali sede del tutto estranea ai fatti e che ovviamente non c'era nessun altro. Peraltro è vero che l'inchiesta, diciamo, l'esposto dei Piredda è contro i gnoti e vorrebbe vedere, ma attenzione perché nel momento in cui sostengono che vi sarebbe stata una terza persona e vi assicuro che i dati a disposizione della procura già ora e ovviamente anche a nostra disposizione sconfessano platealmente anche questa ricostruzione, ne sono state dette di tutti i colori su questa storia. Valentina avrebbe prima sparato a mano il Piredda perché c'erano dei verosimilmente bossoli che ovviamente verosimilmente non c'erano manco per idea. Poi l'attacca chiaramente ha smentito questa ipotesi, poi colpi con corpo contundente, anche questi insomma vada a essere smentiti in maniera plateale, poi un tentativo addirittura uno strangolamento con calza di seta, anche questo sconfessato da ogni evidenza emersa, oggi siamo di nuovo a un'ennesima versione, a mio modo di vedere estremamente infundata e voglio essere generosa, che addirittura ipotizzerebbe la presenza di una terza persona, lì non c'era nessun altro quella notte, c'era Valentina Pizzalis, c'era Manuel Piredda e il sostenere che vi fosse qualcun altro implicitamente è continuare a dire che Valentina Pizzalis ha mentito perché ovviamente Valentina che ha raccontato i fatti di quella sera perfettamente ed è sempre stata ritenuta credibile, ha sempre detto che c'erano solo lei e Manuel e nessun altro è intervenuto in quella situazione, quindi non c'è nessun'altra terza persona né quarta né quinta né sesta. Peraltro la precedente inchiesta a carico di Valentina che ribadiamo si è conclusa nell'ottobre del 2020 con una archiviazione tombale senza se e senza ma, adesso vi leggo proprio le conclusioni perché è molto articolata, il GIP fece un'ordinanza di archiviazione estremamente motivata e che esclude qualunque tipo di responsabilità di Valentina ma implicitamente esclude anche la partecipazione di terzi soggetti. Peraltro circostanza che nasce adesso perché c'era qualcosetta che veniva ventilato suddolamente in tutta una serie di affermazioni del team della difesa in particolare di una consulente dei Piredda, ma ovviamente tutto quello che ha raccontato questa signora non ha mai trovato alcun benché minimo fondamento e oggi siamo diciamo alla ventesima, trentesima versione, non lo so guardate ho perso il conto perché addirittura si parlerebbe ripeto di una terza persona che non esiste, che non c'è mai stata e che ormai ampiamente l'autorità giudiziaria ha diciamo affrontato questo aspetto escludendolo, quindi Valentina Pizzalis se ne devono fare una ragione, è stata ritenuta ampiamente credibile sia nell'inchiesta principale dove era vittima, sia nella seconda inchiesta in cui era indagata, non lo è più e continuare a definirla come ex indagata di omicidio incendio deoloso non porta diciamo molto lontano, capisco che il livore di certe persone evidentemente non si riesce a elaborare, forse il virtuoso di problematiche personologiche che magari hanno anche radici lontane nella prima infanzia ma ho visto comparire nuovamente profili social contro Valentina, pagine farneticanti che hanno un po' lo stesso stile diciamo di quelle che abbiamo visto in un recente passato, quindi vediamo una certa congruenza sia semantica che diciamo psicopatologica rispecca queste pagine a chi le gestisce, profili manco a dirlo ovviamente falsi e compagnia cantando. attenzione perché non c'è nessuno spazio per riaprire questo caso, è stato fatto un esposto e siccome è obbligatorio nel momento in cui arriva una notizia di reato anche la più farlocca, anche la più assolutamente insussistente, vi deve essere chiaramente l'iscrizione della notizia di reato dopodiché la procura fa le sue valutazioni e qui non mi pare che ci voglia la sfera di cristallo, arriverà alle sue conclusioni a mio modo di vedere in questo caso archiviando per manifeste in fondatezza della notizia di reato, ma questo diciamo però ancora siamo alle solite, ancora si cerca di accreditare una versione dei fatti in cui Piredda non è un assassino perché di questo parliamoci un soggetto che ha attratto in trappola Valentina con l'obiettivo di ucciderla, non ci è riuscito per miracolo e ha pagato con la sua vita. Dove loro dicono di aver trovato questa fantomatica traccia ematica, peraltro ripeto da fotografie perché la scena non è più disponibile da molti anni, ci poteva restare ed essere solo Piredda e questo è stato ampiamente dimostrato sia dalla prima che dalla seconda inchiesta che si conclude con le parole del GIP che sono poi le seguenti, ora vi faccio breve perché diciamo l'ordinanza di archiviazione è bella corposa e si conclude sostanzialmente così. Sulla base di quanto sopra, quindi tutte le argomentazioni, quindi tutte le accuse mosse dalla IP Redda per il tramite chiaramente dei loro legali e dei loro consulenti, deve concordarsi con le argomentazioni del PM che è lo stesso peraltro che viene citato negli articoli che vi dicevo su questa fantomatica riapertura, circa l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Valentina Pizzalis e ciò per assoluta inconsistenza di quelli che gli opponenti, cioè IP Redda, ritengono elementi a carico di Valentina. Assoluta inconsistenza, questa definizione arriva dopo tre anni di indagini in cui vi assicuro che nulla è stato lasciato al caso. Inoltre, come sopra rappresentato in considerazione dell'attività investigativa disposta dal PM e dagli approfondimenti svolti in sede di incidente probatorio, qualunque dovesse risultare l'esito delle integrazioni investigative richieste, perché IP Redda, non contenti, hanno fatto anche opposizione alla richiesta di archiviazione in quella della seconda inchiesta, dell'inchiesta bis, chiamiamola così. E anche qui il giudice dice guardate che quello che avete chiesto di fare non rileva minimamente, non sposterebbe assolutamente nulla, perché il quadro indiziario risulterebbe comunque estremamente carente e di certo inadeguato a sostenere qualunque accusa in giudizio. Quindi anche tutto quello che hanno chiesto in quella situazione, dopo tre anni in cui hanno veramente chiesto e ottenuto di tutto, ebbene il giudice dice guardate anche quello che avete chiesto non porterebbe a nulla. Per le ragioni esposte deve essere disposta l'attivazione del procedimento e quindi la distruzione degli atti al PM che è la formalità naturalmente che prevede questo tipo di attività. Quindi già all'epoca tutta una serie di scenari, colpi d'arma da fuoco, il colpo contundente, lo strangolamento e chi ne ha più ne metta, non hanno trovato il ventennimo riscontro. È stata fatta un'attacca sulla salma di Piretta e tutta una serie di informazioni sono coerenti col fatto che nessuno gli ha messo un ditino addosso, ha fatto tutto da solo, ok? Non c'è stato l'intervento di altri soggetti se no se stesso nel cagionarsi la morte e nel tentare di cagionare quella di Valentina. Quindi ho deciso di leggervi il capitolo che ho scritto nel mio libro Favole da Incubo, dopo vi metto anche il link per eventualmente poterlo acquistare, perché sono tutta una serie di casi che abbiamo trattato. Tra questi c'è anche chiaramente la storia di Valentina. Ve la leggo perché ci sono alcuni passaggi che mi piacerebbe insomma affrontare anche con voi, che altro suggerirvi anche come modalità di valutazione. Questo è un libro che ha fatto molto arrabbiare i genitori di Manuel Piredda, ci sono stati un po' di problemi anche qui in Sardegna, l'estate in cui l'ho presentato, perché insomma hanno fatto una serie di richieste per cercare di non permettere le mie presentazioni, ovviamente hanno diciamo avuto scarso successo, se non per quanto riguarda il comune di Gonnesa. Io ovviamente in considerazione della gravità di quello che è successo ho sporto una denuncia che è attualmente l'indagine presso la procura di Roma e vedremo come andrà. Però diciamo che è un testo che evidentemente insomma ha colpito nel segno, ogni volta che qualcuno si arrabbia terribilmente io so di aver fatto bene il mio lavoro, quindi insomma in questo senso ve lo dico molto chiaramente. Quindi ve lo voglio leggere, voglio che questo testo esca diciamo dalla carta stampata e diventi anche una sorta di favola da incubo raccontata in maniera un po' diversa. Quindi vado proprio a leggervi il capitolo dedicato alla storia di Valentina Pizzalis nel libro Favole da Incubo. Cosa ha portato Manuel e Valentina a sposarsi vestiti di nero ad appena 22 anni? Sicuramente qualcosa di molto simile all'amore, almeno così credeva lei, che con quel ragazzo condivideva la passione per la musica punk, il mood dark e i piercing. Perché a 22 anni l'amore è anche questo, un'identità comune, un'affinità musicale, lo stesso gusto nel vestire. Manuel e Valentina si riconoscono subito, tra tanti, quando si incontrano per caso nella piazza centrale di Gonesa, nel sud Sardegna. Il loro è un vero colpo di fulmine. Non possono essersi sbagliati, sono davvero fatti l'uno per l'altra, anche se lei è arrivata lì per vivere insieme a Roberto, il suo fidanzato dell'epoca. Ma Manuel non ha dubbi e lei si lascerà presto convincere. Valentina lo splendore, quellinamenti minuti, la pelle chiara, i capelli e gli occhi neri, e un sorriso contagioso. Manuel la corteggia in ogni modo, anche quando lei parte per un lavoro stagionale in Germania, nella fabbrica della Ferrero. La riempie di messaggi, attenzioni, pensieri, non la dimentica neanche un giorno, neanche quel giorno che passa insieme a un'altra ragazza. Perché Manuel non riesce proprio a stare da solo. Perché Manuel ha tante cose da affrontare, dentro e fuori di sé. E non sempre ce la fa. Valentina dal canto suo mostra comprensione per questa sua scappatella. D'altronde lei è lontana, si colpevolizza, come fanno molte donne. Alla fine, quella intorta è proprio lei. Pensa, perché l'ha lasciato lì da solo. Perciò, nonostante tutto, si lascia conquistare. Anche Manuel è un bel ragazzo e sa come corteggiare una donna. Da quando ha incontrato la sua vale della terra, come la chiama in un messaggio, riesce davvero a dare il meglio di sé. Si mostra attento, affettuoso, premuroso e non commette reati, almeno in quel periodo. Appena Valentina rientra dalla Germania, le chiede di andare a vivere con lui in casa dei suoi genitori, Roberta Mamusa e Giuseppe Pirezza. Valentina, infatti, è una ragazza molto autoloma. Ha iniziato presto a lavorare, è andata via dalla casa dei genitori, è ancora molto giovane e cerca di vivere la propria vita in modo indipendente. Manuel, invece, è totalmente dipendente dei genitori, sia economicamente, sia dal punto di vista psicologico. In particolare, è il suo rapporto con la madre, Roberta Mamusa, a risultare morboso e ossessivo. E Valentina ne subirà le conseguenze, anche dopo i tragici eventi che la segneranno per sempre nel corpo e nell'anima. Perché per Roberta nessuna donna è adatta per quel figlio così immaturo e instabile. Inciso che faccio io adesso. Attenzione, queste non sono informazioni, diciamo così, astrattamente soggettive. Queste sono valutazioni psichiatriche che sono ampiamente riportate nella storia giudiziaria e psichiatrica di Manuel Piredda. Venne addirittura per un... aveva commesso un reato molto grave, è stato valutato sotto il profilo psichiatrico, sottoposto a perizia psichiatrica, è valutato come incapace di intendere di volere proprio a causa di queste problematiche, questo disturbo della personalità gravissimo e le problematiche legate chiaramente alla tossicodipendenza. Quindi non sono informazioni, diciamo così, da prendere a cuor leggero, ma sono il frutto di quello che è emerso agli atti dell'indagine e poi è divenuto anche chiaramente di dominio pubblico. L'incubo della gelosia. Pochi mesi dopo essere andati a convivere, il 4 marzo 2006, Valentina e Manuel si sposano, eleganti, vestiti di nero come piace a loro, in una cerimonia allegra ed estrosa in cui tutti sorridono e sembrano felici. Purtroppo, però, il matrimonio dura pochi mesi. L'adorato neomarito si rivela molto presto un ragazzo profondamente disturbato, ansioso, preda di deliri e comportamenti inaccettabili nei confronti della moglie. Quella che inizialmente sembrava solo una tipica e gestibile gelosia da innamorato un po' sopra le righe, diviene un vero e proprio comportamento ossessivo insostenibile. Manuel fa continue scenate alla moglie, anche in pubblico, anche nel bar dove lei lavora. Quando vanno a dormire chiude la porta chiave, toglie la maniglia dalla finestra in modo che non possa essere aperta e circonda il letto di sacchetti in modo tale che Valentina non possa alzarsi senza far rumore. Le sequesta il cellulare e non la lascia andare da sola neanche in bagno, tormentato dal sospetto che lei possa nascondere un secondo telefonino. Se fosse per lui non la manderebbe nemmeno lavorare e comunque non vestita in quel modo. Insomma, ben presto la favola d'amore si trasforma in un incubo fatto di controllo ossessivo e violenza. Valentina non ce la fa e va via. Lo lascia e torna a vivere a casa dei genitori a Carbonia. L'esperienza l'ha segnata profondamente, in molti, in paese, la ritengono strana per via dei piercing, del carattere ribelle, ma in realtà è una brava ragazza con i piedi per terra. La separazione, ma soprattutto l'errore di valutazione fatto nei confronti di Manuel l'hanno portata a rimettersi in discussione, in modo propositivo. Proprio come un'araba fenice è disposta a tornare sui suoi passi, rinuncia per un po' la propria indipendenza, accettando l'aiuto della famiglia, e decide perfino di rimettersi a studiare. Ha progetti concreti e si impegna a fondo per realizzarli. Lei non è come Manuel, sa quello che vuole, ma soprattutto sa che non vuole più stare con lui. Verso l'abisso. Mentre Valentina studia, lavora e cerca di ricostruirsi e porre le basi più solide per il proprio futuro, Manuel sprofonde in un abisso di disagio mentale, droga, alcol e psicofarmaci. Per procacciarsi i soldi necessari a rifornirsi di benzodiazepine, di cui è arrivato a consumare quasi due scatole al giorno, quasi chiede la carità a chiunque. Anche questo sul punto non è una nostra affermazione. Lo dice Chiaritondo una zia di Manuel che l'ha vista in condizioni veramente disperate. Proprio in quel tipo di intervallo temporale. Torniamo alla storia. Ma soprattutto Ruba, anche in casa dei genitori della ex moglie, che però decidono di non denunciarlo, preferendo tentare di aiutarlo in altri modi, dargli una possibilità di recupero. Perché anche loro si sono resi conto che è messo male e nonostante tutto non vogliono procurargli altri guai. Manuel, nella sua condizione, è stato anche abbastanza fortunato perché ha trovato persone come Valentina e la sua famiglia che in qualche modo gli vogliono comunque bene e vorrebbero dargli una mano. Anche se è difficilissimo perché lui non si lascia aiutare. Ma dall'altra parte ci sono i suoi genitori che continuano a ignorare lui e i suoi problemi. E anche sul punto esistono riscontri del fatto che sia stato detto, Chiaritondo in particolare alla madre di Piredda, che era necessario un ricovero proprio a ridosso dei tragici fatti di quella maledetta notte a Bakuabis. Chissà che magari quel ricovero avrebbe sottratto tutti a questa terribile vicenda. Che continuano a ignorare lui e i suoi problemi, sempre più evidenti, sempre più drammatici, sempre più irrecuperabili, preferendo mettere la testa sotto la sabbia e la polvere sotto il tappeto. E anche qui ci sono ampi riscontri. Non sarebbe un problema entrare maggiormente nel merito nel caso. E dire che sanno bene che ormai è alla deriva. Poco tempo prima della tragedia la stessa psichiatra di Manuel dirà chiaramente alla madre che è meglio ricoverarlo perché la situazione è fuori controllo. Ma neppure questo servirà a mamma Roberta per decidersi ad arginare quel figlio così fragile, immaturo, disturbato, autodistruttivo e pericoloso per sé e per gli altri. E già perché Manuel dà segnali di disagio psicologico sempre più seri, tanto da essere sottoposto alla polizia psichiatrica poco tempo dopo essere stato lasciato da Valentina. Una notte lui, che è già stato condannato per guida in stato di ebrezza, viene fermato da una pattuglia perché sta guidando un veicolo privo del pneumatico anteriore destro. Avete capito bene? Privo del pneumatico anteriore destro, non con una ruota sgonfia. Ai carabinieri dice di non avere con sé i documenti e rilascia false generalità dando il nome dell'ex fidanzato di Valentina, Roberto. Ma quando viene invitato a sostituire lo pneumatico mancante perde il controllo e inizia a rivolgersi agli agenti con parolacce e insulti. I carabinieri decidono allora di sottoporre il ragazzo al narcotest, ma Manuel dà in escandescenza e comincia a tirare calci. Arrestato in flagranza di reato, viene processato per direttissima presistenza pubblico ufficiale e farsi in atto pubblico, ma viene assolto in quanto non imputabile, essendo totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Il perito incaricato dal tribunale, infatti, nella sua perizia dichiara non solo la forte dipendenza dell'imputato da benzodiazepine, ma anche un disturbo di personalità con evidenti tratti immaturi e paranoidei che l'abuso di farmaci ha peggiorato. Invitato a curarsi, Manuel rifiuta a ricovere e continua a fare uso e abuso di stupefacenti e benzodiazepine. Continua anche a rubare fino a quando il 3 luglio 2010 finisce agli arresti domiciliari. Una settimana dopo i carabinieri lo intercettano nei pressi di una parafarmacia, scatta l'inseguimento che termina a casa Piredda, dove sua madre dichiara agli agenti che Manuel si trova in camera sua, mentre lui stesso ammetterà, smettendola, di essere uscito a cercare una dose. Ancora una volta Roberta Mamusa copre il figlio, nega ogni addebito che lo riguardi e soprattutto rifiuta di sottoporlo a ricovero per la disintossicazione. Questi sono purtroppo aspetti che sono agli atti. Gli è stato detto a Roberta Mamusa che c'era bisogno di ricoverarlo. Purtroppo, e lei era l'unica persona realisticamente che poteva convincere Manuel a quel ricovero e purtroppo questa cosa non è avvenuta. Poi perché, per come, magari un giorno ce lo spiegherà, però certamente era ben consapevole perché gliel'ha detta la psichiatra che aveva in cura a mano e glielo disse che era il tono, che era necessario un ricovero perché la situazione non era più gestibile. La trappola. Nonostante l'appoggio incondizionato della madre, inspiegabilmente Manuel se ne va di casa, occupando abusivamente un appartamento nella piccola frazione di Baku Abyss. È l'inizio della fine. Da qui chiama continuamente Valentina, la ragazza nel frattempo si sta risollevando dal falimento della triste esperienza matrimoniale e ha anche iniziato una relazione con un altro ragazzo che conosce da tempo e di cui si fida. Manuel le chiede con esistenza aiuto e soldi. Valentina cerca di dargli una mano come può e lui inizia ad allargarsi sperando di tornare insieme a lei. Ma Valentina è molto chiara su questo, almeno nei messaggi che scambia con quello che è ancora ufficialmente suo marito. Ammette che un tempo era davvero innamorata di lui e che quei messaggi così accorati avrebbe voluto riceverli allora, ma ora non hanno più senso perché ha perso ogni fiducia in lui e non potrà più tornare ad averla perché lei di quell'amore malato e immaturo non sa che farsene. Nel frattempo scopre molte cose che non sapeva prima di sposare Manuel. La più grave di tutte è la condanna che ha riportato ad appena 18 anni, chiaramente mi riferisco a Piredda, per aver offeso, minacciato e leso l'onore di una ragazzina minorenne con cui aveva avuto una storia. Durante la relazione Manuel aveva mostrato nei confronti della ragazza una gelosia ossessiva. Lei proibiva di parlare con chiunque, di vestirsi in un certo modo, era morbosa e asfissiante, proprio come era con lei. Per questo la fidanzata dell'epoca l'aveva lasciata. Ma da quel momento era iniziato un calvario fatto di telefonate e messaggi minatori anonimi, fino alla diffusione in paese di volantini in cui lei compariva seminuda e veniva definita la divine poppea. Per questo episodio Manuel era stato condannato a un anno di reclusione, ma la pena era stata sospesa. La vittima invece era stata costretta a ritirarsi da scuola e a subire gli sberleffi dei compaesani. Insomma, come vedete, non era una persona che gestiva molto bene la fine delle relazioni. Consentitemelo. Insomma, era già chiaro all'epoca che Manuel Piredda non è particolarmente preparato a gestire la fine di una relazione. Quando ritiene di essere stato abbandonato, rifiutato, diventa una furia. Con l'ex fidanzata si è limitato, se così si può dire, a farle terra bruciata intorno, ma per Valentina ha in mente ben altro. Bruciarla viva. Perché lei, e questa è la punizione per chi ha usato sottrarsi al suo controllo, ossessivo e spietato. Non le basta ucciderla, deve distruggerla, cancellare quel volto e quel sorriso stupendo e contagioso. Non le basta farle terra bruciate intorno. Stavolta bruciare deve essere proprio lei. E si organizza per far sì che questo accada. Nonostante tutto, però, Valentina non riesce a dire di no a Manuel quando lui insiste per vederlo. C'è qualcosa che le impedisce di allontanarlo davvero, di distaccarsi definitivamente da lui, di sottrarsi alle sue insistenti richieste, tipiche di un manipolatore affettivo, che vuole a tutti i costi tenere l'altro legato a sé. Nonostante il dolore che le ha fatto provare, nonostante le delusioni, nonostante la gravità dei comportamenti delle bisogni. Nonostante lui, per Seberi, nella sua condotta, si mostri ridotto sempre peggio. Tanto da diventare irriconoscibile persino agli occhi dei parenti più stretti. Ci sono testimonianze anche sul punto. Anche Francesca, la sorella di Valentina, le dice a Chiara Lettere che non è il caso di continuare a dargli retta, che non dovrebbe più vederlo. Ma Valentina non l'ascolta. Non l'ascolta neanche la sera del 16 aprile del 2011, quando si reca a casa di lui. Manuel l'ha tirata in quella trappola mortale con l'ennesima menzogna, con la stessa prepotenza di sempre. Perché lui la chiama, quando lui la chiama, lei deve correre da lui. Punto e basta. E lì c'è un'enormità di messaggi che lui le manda quella sera, peraltro mi intendo perché non è vero che il giorno dopo avrebbe dovuto vedere il suo avvocato, lei avrebbe dovuto portargli un documento, insomma fa in modo e maniera la sfissia di messaggi per convincerla ad andare da lui quella maledetta notte. La notte tra il 16 e il 17 aprile del 2011 un terribile incendio devasta un piccolo appartamento al quarto piano di una palazzina nella frazione di Baku Abis, nel comune di Carbonio. I vicini chiamano i soccorsi che trovano una ragazza devastata dalle fiamme in fin di vita e il corpo senza vita di un ragazzo con evidenti ustioni su varie parti del corpo. Cosa è accaduto? Quando Valentina è entrata nell'appartamento occupato abusivamente da Manuel Piredda, lui le ha rovesciate addosso della benzina e le ha dato fuoco. Valentina non ha visto né sentito più nulla, a parte la sua stessa pelle che scoppiettava e friggeva. Si è buttata a terra, è riuscita a spegnere le fiamme che aveva addosso e ha continuato a respirare. L'ha spostata in ospedale, ha detto mio marito mi ha dato fuoco. Questa è l'unica versione fornita da Valentina e ha sempre fornito quella versione che più giudici hanno valutato come pienamente credibile, affidabile e consistente. Per cui non ci sono versioni alternative con buona pace di chi cerca disperatamente di accreditare una narrazione di questa vicenda che chiaramente non ha né capo né coda. Dopo mesi di terapia, dolore atroce e decine di operazioni, Valentina Pizzalis la cui resistenza e tenacia superano ogni drammatica previsione, esce dal reparto grandi ustioni dell'ospedale di Sassari. Non ha più una mano, non ha più il naso, né un centimetro della sua pelle. Ma lei è rimasto il sorriso, come dice lei stessa qualche tempo dopo. Quel sorriso contagioso e luminoso che l'ha sempre contraddistinta. Quel sorriso che è il simbolo della sua capacità infinita di resilienza, proprio come una raba fenice. Quel sorriso che Manuel Piredda voleva spegnere per sempre con il suo lucido e scelerato piano criminale. Perché di questo parliamo, di un tentativo di omicidio pianificato, premeditato e organizzato. Lui ha portato a casa sua la benzina necessaria per uccidere Valentina. E nessun altro. Non ci sono terzi soggetti, né quarti, né quinti, né sesti. Erano loro due ed è finita come ben tutti sappiamo. Manuel Piredda è morto nell'incendio da lui stesso appiccato per uccidere la moglie. È rimasto intrappolato nell'angusto andito dell'appartamento mentre cercava di dare fuoco al resto dell'abitazione. Le fiamme sono divampate a pochi passi da lui, consumando tutto l'ossigeno disponibile e lui si è accasciato a terra, morendo pochi istanti dopo. Come era Ostrato, il pastore dell'antica Grecia che voleva lasciare un segno indelebile di sé incendiando il tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico. Anche Manuel pensava di usare il fuoco per spegnere e segnare la carne e l'anima di Valentina, per marchiarla in maniera indelebile. Ma per lui, come per l'antico criminale, il folle gesto si è trasformato nella propria condanna a morte. Valentina è sopravvissuta e risorta. La sua storia è diventata un libro ed è poi confluito in un docufilm, Il futuro è donna, per la regia di Giosquillo, presentato alla mossa del cinema di Venezia nel 2017. Il suo volto è diventato un simbolo della lotta contro il femminicidio. La sua personalità, sempre generosa, nonostante tutte, è ora il motore della nuova e preziosa battaglia per la consapevolezza e la prevenzione della violenza sulle donne. Questa storia ci insegna molto. La vicenda di Valentina Pizzali si rappresenta al culmine estremo dello stereotipo della donna come proprietà assoluta dell'uomo, in cui la possibilità che la proprietà si sottragga al suo proprietario non è contemplata. La pena per la fuga, in questo caso, è non solo la morte, ma la distruzione totale della vittima, sotto ogni punto di vista. Il fuoco è il modo che usa Manuel per dire a Valentina non mi basta ucciderti, io ti devo distruggere, di te non deve rimanere niente, perché hai osato sottratto al mio controllo. È lo strumento per annullare la vittima, anche simbolicamente, cancellando tutto ciò che è più rappresentativo di lei, il volto, che in questo caso è l'elemento su cui Piredda focalizza maggiormente il suo concetto di possesso. Manuel vuole distruggere quel sorriso così abbagliante, così seducente, così bello. E certo un incendio è il mezzo più adatto tra tutti a ridurre in cenere qualunque traccia di quella donna, della quale non resta davvero più nulla. Ecco, forse spiegato perché ricorre così spesso nelle vicende di femminicidi. Ma lo stesso meccanismo psicologico è alla base anche delle molte aggressioni con l'acido. Spesso in casi così estremi, il senso di possesso, entra in atto lo stereotipo connesso o mia o di nessuno, ossia il momento decisivo che fa scattare qualcosa nella mente del manipolatore ed è proprio quello in cui l'oggetto letteralmente della sua ossessione osa tentare di rifarsi una vita senza il manipolatore. Perché è in quel frangente che al predatore diventa chiaro una volta per tutte ed ha perso la sua donna per sempre. E poiché lei appunto è sua, non è ammissibile che possa essere ora di qualcun altro. Di qui l'unica soluzione percorribile agli occhi del carnetice, distruggerla nel peggior modo possibile. Infatti Immanuel diventa più invadente nei confronti di Valentina, inondandola di messaggi in cui la prega di tornare insieme proprio quando lei, dopo averlo lasciato, inizia una nuova relazione. E la cultura maschilista imperante non aiuta a superare questo meccanismo, nessuno prova le mille canzoni spesso in voga tra i giovanissimi che inneggiano rapporti di subordinazione della donna al proprio buono, che trattano la donna come un oggetto di proprietà e che arrivano addirittura a prospettare gesti estremi nel caso in cui malauguratamente per lei l'amore dovesse finire. Tale retrotella culturale non è estraneo né a Immanuel né a Valentina che posta alcune di queste canzoni sui suoi profili social. Di certo i segnali che Immanuel vedesse le donne come proprietà non mancavano. Basti pensare alla vicenda della sua ex che distrugge simbolicamente, difamandola quando lei lo lascia. Ma ci sono anche segnali più comuni e per questo, anche per questo, spesso sottovalutati, perché considerati normali come le scenate di gelosia, i tradimenti, ai quali Valentina inizialmente non dà il giusto peso. Perché? Perché non dà il giusto peso? Perché dietro questi comportamenti si nascondono di nuovo degli stereotipi di genere. Quante donne giustificano la gelosia dei propri uomini considerandola un segno d'amore o di interesse? È geloso perché mi ama? È forse una delle più grandi e diffuse bugie che le donne raccontano a se stesse da sempre. Anzi, la mancanza di manifestazione di gelosia è considerata a volte un segnale di assenza d'amore o di un amore troppo tiepido, di scarso interesse, insomma. Quando invece dovrebbe essere la norma in un rapporto in cui ci si rispetta e si apiducia l'una dell'altra. Ma questo è vero per entrambi i sessi e non solo per gli uomini. Le famose scenate di gelosia che tante donne mettono in atto verso i propri uomini sono in fondo segnali della condivisione della stessa idea che l'amore sia possesso dell'altro. E poi ci sono i tradimenti, diciamoci la verità. Viviamo in un contesto culturale in cui i tradimenti non sono abbastanza condannati, anzi sono considerati accettabili, soprattutto se a commetterli è un uomo. Perché l'uomo si sa è cacciatore, tradire fa parte della sua natura e poi non sa stare da solo. Infatti quando Manuel tradisce Valentina è lei a colpevolizzarsi perché ha scelto di partire e quindi cosa poteva aspettarsi. Che lui la attendesse fedelmente? La risposta è sì ovviamente, ma evidentemente non è poi così scontata. E notate bene anche un altro dettaglio. Manuel è ossessionato dall'idea che Valentina possa tradirlo. Di qui le scenate di gelosia pubbliche per motivi futili, ma lui in quanto uomo si sente autorizzato a farlo, sia pure giustificandolo con la lontananza. Perché anche se lui a tradirla, la colpa ricade sempre invariabilmente su Valentina. Del resto, così è scritto dalla notte dei tempi, quell'epoca così lontana da noi, ma ancora così drammaticamente e energicamente presente, nel modo in cui ancora definiamo sia i modelli di genere che i rapporti tra le persone, soprattutto, anche se non solo, all'interno della relazione sentimentale. Eccoci allora al vero punto. Una persona che ci tradisce, una persona che non ci vede come partner alla pali, ma ci ritiene in qualche modo inferiori, in quanto ci sta facendo qualcosa che non vorrebbe mai noi facessimo a lei o a lui. Certo, ogni tradimento va contestualizzato e non siamo qui per elargire la sentenza a buon mercato, per carità, ma certamente il tradimento di un compagno non è mai una cosa normale e come tale non può essere trattata. Quanto meno è il segno di un rapporto che ha perso il suo equilibrio e spesso è anche un segnale che potremmo avere a che fare con un manipolatore affettivo vero e proprio. Ma nella vicenda di Valentina e Emanuele c'è anche onipresente lo stereotipo della donna badante che in questo caso assume una forma interessante perché la principale succube di questa idea non è Valentina, bensì è la madre di Manuel, Roberta Mamusa. Valentina certo possiede dentro di sé l'istinto di accudimento, tanto non avere il coraggio di rompere del tutto i rapporti con Manuel, nei suoi occhi lui è una persona malata che ha bisogno di aiuto e lei non riesce a negarglielo del tutto e questo purtroppo la farà cadere nella trappola mortale. Roberta Mamusa però non è semplicemente una donna badante, è una vera e propria mamma chioccia nella sua accezione più sconcertante e irriducibile, consentitemi, che difende il figlio contro ogni evidenza e anche dopo la sua morte portando avanti, lo vedremo tra poco, l'opera di distruzione di Valentina che lui aveva iniziato. Eh già, e anche sul punto c'è da dire qualcosa di interessante. E anche questo è uno stereotipo, lo stesso che aveva accecato Manuel, anche lei a sua volta considera Manuel come un suo possesso, per cui Valentina non ha diritto di infangarne la memoria, anche se Valentina di fatto racconta le cose come stanno, consentitemi, non ha diritto di parola su di lui, non ha diritto di dire nulla contro di lui perché lui è mio figlio, soprattutto da un maschio. La verità è che Roberta Mamusa non accetta la responsabilità che inevitabilmente ricade anche sul genitore davanti a un figlio tanto disturbato. Questa è l'opinione personale che mi sono fatta io e devo dire che questo ostinarsi a voler trovare una spiegazione alternativa a fatti che ormai sono acclarati e che vedono Manuel Piredda, l'unico responsabile di quello che succede a Baku Abis nell'aprile 2011, francamente un po' mi conferma in questa mia ipotesi. E questo ci porta a riflettere sul ruolo dei genitori e le madri. In primi sanno nel perpetuare lo stereotipo della donna badante. Moltissime madri credono che il loro dovere sia innanzitutto quello di essere protettive, amorevoli, accudenti, talvolta fino a rinunciare del tutto quasi al ruolo educativo che viene demandato ai padri e di nuovo è l'uomo la figura autoritaria della famiglia, colui che decide, fissa le regole, quindi altro stereotipo insomma di difficile in qualche modo scomparsa, difficile che tramontino definitivamente perché anche questo è uno stereotipo di genere ancora prepotentemente presente. È in questo contesto che maturano figure come Roberta Mamusa ma anche come Angiola, la fragile e anche fin troppo disponibile madre di Arianna Flagello che è un'altra delle storie che raccontiamo nel libro Favole da Incubo. Donne che non sanno negarsi, che non mettono mai i figli davanti alle proprie responsabilità, che pensano che l'amore sia dire sempre sì e difendere i figli a ogni costo. Ed è in questo contesto che crescono figlie femmine convinte di dover fare altrettanto con i loro compagni e con i loro figli e i figli maschi che si aspettano esattamente lo stesso trattamento materno anche dalle loro parme. Insomma, cronaca di tragedie largamente annunciate nella stragrande maggioranza dei casi. Cosa si è detto di Valentina Emanuele? Eh, insomma, si è detto un po' di tutte e di più. La trattazione mediatica di questo caso non è indenne dai meccanismi già visti in atto anche in altri casi che chiaramente abbiamo raccontato nel libro. Sui media e soprattutto sui social media si è scatenata la giossa dell'offesa Valentina che purtroppo dopo questa ennesima, diciamo, butade per questo ennesimo esposto destinato, ve lo dico francamente, senza tema di smentita a nulla, cioè all'ennesima archiviazione, è ricominciato l'odio social su Valentina Pizzali. Sono ricomparse pagine gestiti da sculibrati, ovviamente, con profili falsi che la inondano di nefandezze e questo purtroppo ormai l'abbiamo visto per molti anni, perché poi è anche gente che non ha neanche il coraggio di metterci la faccia fino in fondo, insomma. Evidentemente non c'hanno una gran faccia da metterci da questo punto di vista, però è riniziato tutto da capo ancora. Ma questa storia è qualcosa di diverso dalle altre, per fortuna. Una volta tanto la vittima può ancora parlare, raccontare la propria versione e difendersi. quindi, anche qui fondamentalmente, quello che si è cercato di far, diciamo, pensare e credere di Valentina, ha trovato in Valentina il principale ostacolo, perché lei è estremamente efficace nel raccontare la storia e naturalmente ha demolito pezzo per pezzo tutte le nefandezze, tutte le menzogne, tutte le diffamazioni che sono state dette su di lei, compresa quella più grave, ossia quella di farla passare, tentare di farla passare per un'assassina. Nella vicenda di Valentina Pizzalis, ad alimentare presso i media gli stereotipi di genere e illazioni contro la vittima e soprattutto Roberta Mamusa. Non se ne potrà, diciamo, avvena male la signora Mamusa, visto che abbiamo tonnellate di post suoi, suoi o quantomeno che lei sia attribuita, insomma, che siano tutta farina del suo sacco, io qualche perplessità ce l'ho e l'ho manifestata anche in diverse occasioni, ma indubbiamente lei se ne è attribuita la responsabilità e quindi sono post suoi, quantomeno sono post che lei, se non ha direttamente prodotto, certamente ha provato. La irriducibile mamma chioccia, che non è pronta ad accettare l'idea che suo figlio sia un criminale pericoloso, con seri disturbi psichici e soprattutto Roberta è devastata dell'idea che tutto ciò si venga a sapere. Il problema grosso è che in questa storia è proprio questo accanimento nel voler costruire una narrazione totalmente inverosimile dei fatti ad aver fatto emergere tutte le problematiche di mamma di Piredda e sono tantissime. Perché Valentina non solo è sopravvissuta, ma parla e racconta e viene intervistata dai giornali e anche in televisione. La mamma iperprotettiva decide così di difendere la memoria del figlio morto e lo fa con una tecnica evidentemente ben nota alla sua famiglia, ossia gettare fango sulla nemica in modo sistematico e implacabile. Sul punto guardare, credetemi, c'è tanto di quel materiale agli atti, peraltro insomma giudiziari, che è qualcosa di straordinario e non soltanto contro Valentina, peraltro. Valentina non deve avere tregua, così Roberta intraprende una serrata campagna difamatoria durata anni e parliamo di campagna difamatoria perché c'è una condanna a carico della signora Mamusa. Per il momento la prima vedremo se la questione si allargerà, visto che ha anche altri procedimenti, anzi altri processi a carico. Ed ecco è stata ben due condanne per difamazione aggravata, una in sede civile e una di primo grado in sede penale, con un'insolita capacità mediatica, costruisce una sorta di contro realtà. È proprio un mondo parallelo, possiamo definirlo come tale perché non trova nessun riscontro, non ha mai trovato nessun riscontro. Totalmente fittizia, cercando di ribaltare su Valentina le colpe di Manuel. Secondo fantasiose ricostruzioni degne del più ardito film di fantascienza e confini con l'esoterismo, e gli assicuro che questa parola non è scelta a caso, come dirà in udienza uno dei legali di Valentina, sarebbe stata proprio Valentina a uccidere Manuel. In perterrita Roberta Mamusa estrapola frasi di canzoni impostate dalla ex nuora, che a suo dire ne dimostrano la follia. Fotocopia pagine di un vecchio diario della ragazza, trova persino improbabili testimoni disposti a dichiarare avvenimenti mai accaduti nella realtà. Parla di bossoli che non esistono, di altrettanti resistenti ferite d'arma da fuoco al crano del figlio, di un bottone rimvenuto accanto al defunto, di una ciocca di capelli stretta nella mano di Manuel, che dimostrerebbe che prima dell'incendio è avvenuta la colutazione, ma manco per idea tutto questo è stato ampiamente smentito in maniera insuperabile, questo e molto altro entra in causa nella vicenda per tentare di trasformare la vittima in una assai improbabile carnefice. Anche dopo essere rimasta diturpata dal fuoco, Valentina non smette di subire la violenza della famiglia Pirelda e deve addirittura difendersi dall'accusa di omicidio, in un processo mediatico che sulla base di notizie fasulle le rivolge accuse e parole pesantissime. E se qualcuno ha dubbi sul punto mi contatti privatamente, mi mando tonnellate di post comparsi in queste pagine veramente cloaca contro Valentina e contro chi sosteneva Valentina con delle cose veramente sconvolte, di una gravità sconvolta. E il processo non resta solo mediatico perché nel 2017, proprio mentre Valentina sfila sul red carpet di Venezia per presentare il docufilm che parla anche di lei, la procura di Cagliari decide di aprire il caso, sempre dietro denuncia chiaramente dei genitori di Pirelda, per verificare se davvero possa aver ucciso lei, l'ex marito. E questo dopo che il fatto era stato archiviato come tentato omicidio da parte di Manuel Pirelda e l'indagine archiviata all'epoca dal dottor De Angelis per morte del reo. Intanto in molti hanno già abboccato i danni alle assurde accuse della ex suocera. Sui social e nei commenti sotto gli articoli di giornale che parlano del caso abbondano l'offese anche pesante nei confronti di Valentina che viene giudicata colpevole da un tribunale popolare chissà in base a quali criteri e prove. In molti invocano giustizia, le scrivono che ha avuto quel che si merita, che un giorno pagherà per ciò che ha fatto e anche molto peggio. Vengono aperte addirittura delle pagine Facebook a sostegno di mano. La vicenda solleva alcune criticità e chiaramente se ne interessano anche importanti giornalisti. Qui ho poi nel testo riportato uno straccio di un articolo molto importante che tratta di questi aspetti. Non piace ai giornali Valentina, le testate nazionali si interessano poco o niente delle accuse assurde che le vengono mosse, sono perlopiù quelle regionali a parlarne. Ma nonostante tutto ciò, questa storia ha qualcosa di diverso dalle altre. Perché Valentina è viva e parla, come abbiamo già avuto modo di dire. Nonostante le difide della ex-suocia ad andare in tv a parlare del figlio, racconta la propria versione dei fatti, si difende e mostra il suo volto che non sarà mai più lo stesso. La mano che ha perso nelle fiamme, sì, anche questa risa, che nessuno mai potrà spegnerle. C'è il cane che chiaramente ha deciso adesso di intervenire. Infine l'epilogo arriva. Arriva il 22 settembre del 2020, quando Roberta Mamusa viene condannata al tribunale di Cagliari per difamazione ai danni della ex nuora nel processo di primo grado. Poi, il primo ottobre 2020, giunta la notizia che Valentina e tutti quelli che l'hanno sostenuta durante questa lunghissima e durissima battaglia giudiziaria, attende da tre anni. Cioè il GIP dispone la definitiva attiviazione dell'indagine a suo carico per omicidio e incendio doloso, ribadendo a chiare le lettere che lei, quella maledetta Sfera Bakuabis, è stata la vittima di un tentato omicidio. È la fine di un incubo per Valentina, per la sua famiglia e per tutti coloro che l'hanno sostenuta in questi anni, finendo spesso vittime a loro volta del tricacarne mediatico orchestrato dai Piregda e da alcuni soggetti a loro molto vicini, anche essi, diciamo, attenzionati sotto il profilo giudiziario mai da un po'. Questa è la pietà tombale che pone la parola fine a una vicenda giudiziaria unica nel suo genere. l'araba fenice, ancora una volta, torna a volare alto. E questo è in estrema sintesi, vi assicuro perché ci sarebbe da dire molto molto altro su questa vicenda. Quello che è accaduto, e siccome, ripeto, ho letto in questi giorni di una fantomatica riapertura, no, si tratta semplicemente di un altro esposto presentato dai Piregda, destinato, ripeto, sicuramente a essere archiviato perché non c'è spazio ad altre valutazioni e quella sera, vi assicuro, l'ipotesi che vi sia qualcun altro coinvolto è totalmente sconfessata da dati oggettivi ed è stata già ampiamente affrontata anche nell'inchiesta bis che ha escluso qualunque responsabilità di Valentina e ha ritenuto pienamente credibile quello che Valentina dice. Quindi tentare ancora oggi di farla passare per bugiarda è un tentativo che non troverà, così come non hanno trovato spazio quelli precedenti, che non troverà alcun tipo di elementi. Mi auguro che la procura di Cagliari velocemente arrivi a presentare richiesta di archiviazione perché veramente la pietra tombale su questa storia c'è, gli elementi per dimostrare l'assoluta insussistenza di questa enesima butad ci sono ampiamente disponibili, non serve sprecare altro tempo ed energia dietro una storia che ha già ampiamente scritto un finale e che trova ampi riscontri nella narrazione effettiva e unica, ossia Manuel Piredda muore nella trappola mortale organizzata per uccidere Valentina Pizzaris. Scusate questo lungo escursus ma ho ritenuto che questa favola da Incubo andasse raccontata fino in fondo per sollevare Valentina da questa enesima situazione che le sta pesando per convincere anche quei pochi ancora evidentemente ancorati a una narrazione completamente farneticante a lasciarla stare, a finire di perseguitarla perché adesso è veramente troppo. Quindi amici, grazie per l'attenzione e ci vediamo domani con un nuovo contributo.